Il marchio che per tre anni di fila seguirà il nostro Palermo, il marchio di Homa. Io invito subito, tanto se mi volete accomodare e così iniziamo subito, invito al microfono il padrone di casa, il presidente del circo, il dottore Italia. Venga, lo accogliamo con un applauso e ci dai il benvenuto e grazie per averci ospitato. Grazie a voi di essere venuti. Quando me l'ha chiesto la città di Palermo e il nostro socio Guglielmo Micichè sono stato felice di ospitare questa conferenza stampa. Noi abbiamo una più che decennale collaborazione con la società del Palermo e fin dai tempi di Renzo Barbera abbiamo sempre avuto un feeling e quindi l'abbiamo fatto con tantissimo piacere. Abbiamo messo tutte le nostre strutture al servizio di questo Palermo che torna in serie A e che ci torna in serie A.